Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube. Questo è un periodo di reaction, infatti circa, credo 4-5, una settimana fa circa, è uscito il secondo trailer dedicato a lanciarte del film con Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Sally. Come sapete il primo trailer per quanto mi avesse incuriosito mi aveva lasciato anche un po' perplessa perché mi era sembrata la trama del quarto gioco rielaborata per un Nathan più giovane, quindi sinceramente ho io un po' paura per questo Uncharted. Adesso ci guardiamo questo secondo trailer, non l'ho ancora visto, non ho visto neanche reaction perché volevo appunto avere la mente libera da qualsiasi influenza, quindi io direi banda le ciance, guardiamoci questo trailer e commentiamolo insieme. Eccolo qui, sempre che shaker ai cocktail, questa era già nell'altro trailer, ma anche questa. E io lo ribadisco, questa è la trama del quarto gioco, va bene, ok, ma datemi un senso, da quando? Perché? Chloe? Ok, ma perché? Questo dovrebbe essere quello del quarto gioco. E infatti la croce nel quarto gioco. E va bene, questa l'abbiamo già vista nel primo trailer, questa è un po' più coccatizzata, un po' alla Spider-Man. S'è fatto qua. Sully non l'avrebbe mai fatto. Questo è nel terzo, devo capire, non capisco sinceramente. Ok, va bene. La abbiamo visto nell'altro trailer. Anche il motoscaff, anche se sei nel quarto gioco. Questa è Chloe, va bene, Chloe nel secondo. Questa è una... Questa è tutta la trama del quarto gioco, però, ma... Ecco, la cosa che portava... Da quando? Questo succedeva nel primo con la stata di Eldorado. Ma da quando portano via le navi? Ma scherziamo. Allora, non dico che sia brutto scenograficamente, ma non c'entra un cazzo col gioco. Vabbè. Molto figo, per carità, ma... Dov'è il videogioco di Uncharted qua? ...giù le armi, ragazzi. Ma che diavolo hai sulla faccia? La pubertà è alle porte, fatteli crescere anche tu. Oddio, per i baffi! Mo' non lo so, ragazzi. Allora, ragazzi, io sono perplessa. Nel senso che non sembra un brutto film. Per essere... Se tu lo guardi come un film d'azione, d'avventura, un po' alla Indiana Jones, perché comunque l'intento poi di Uncharted era quello, emulare un po' Indiana Jones, Tomb Raider, queste cose qua, potrà anche venire fuori una bella cosa. Ma, se tu mi fai un film su Uncharted e poi mi rimescoli la trama videoludica come cazzo vuoi, vuol dire che ho una paura fottuta che stanno facendo come hanno fatto a Anderson e Company con la saga di Resident Evil. Ovvero, prendono cose dei giochi a caso e ci fanno quel cazzo che vogliono. No, se io voglio un film tratto dal primo gioco di Uncharted, tu mi metti le cose del primo Uncharted. Per esempio, dove è Elena? Elena è l'amore della vita di Nathan. Per quanto con Chloe abbia avuto una relazione e poi sono rimasti in ottimi rapporti nel gioco, dico. E Elena è l'amore della vita di Nathan. Arrivano anche a sposarsi e ad avere una figlia alla fine del quarto gioco. Questa poi è la trama del quarto gioco. Poi c'è la cosa dell'aereo che succede nel terzo. La cosa del bar che succede nel primo. Anzi, neanche nel terzo, ma in un flashback. La cosa delle navi di Sam è nel quarto gioco. Cioè, hanno fatto veramente come Anderson. Nel senso che hanno preso cose dei giochi a caso, ma più che altro del quarto gioco. La croce, il personaggio di Banderas, Nadine, Chloe, che poi nel quarto gioco non c'era neanche. C'era Elena, anzi. Insieme. È andata quindi a questo punto. Per quanto Chloe, io l'ho sempre detto, il secondo è il mio preferito anche per via del personaggio di Chloe, che qui è resa molto bene. Potevano metterci Elena a questo punto, il suo incontro con Elena. Quindi, boh, sinceramente ho le idee molto confuse. Non dico che sia un brutto trele, perché se uno lo guarda con un film d'azione a sé stante, allora sicuramente potranno aver fatto un buon lavoro. Ma, non ci sono gli elementi video, cioè ci sono, ma sono messi alla cazzo di cane. Almeno, vedendo il trailer. Vedendo il trailer, secondo me hanno fatto un film, l'hanno chiamata Uncharted, prendendo cose del gioco e mettendoci i protagonisti a caso. Che Mark Wahlberg, sì, ci può stare come Sally, però Sally non avrebbe mai abbandonato Nathan nel momento del bisogno. Avrebbe trovato un'altra soluzione. Perché Nathan e Sally hanno un rapporto padre-figlio. Quindi, voglio proprio vedere come svilupperanno. Spero che non lo sminchino. Perché il rapporto tra Sally e Nathan è una delle cose belle della saga videoludica. Ho un po' paura, ragazzi. Ho un po' paura, francamente. Avevo dei dubbi col primo trailer. Con questo trailer si sono accentuati, sono aumentati i dubbi. Però, come dico sempre, mai giudicare una cosa fatta è finita. Poi magari verrà un bel film. Però, ho come l'impressione che dovrò guardarlo senza pensare alla saga videoludica. Dovrò guardarlo per un film d'azione ed avventura un po' alla Indiana Jones, un po' alla Tomb Raider e un po' alla Spider-Man. Perché tu vedi Tom Holland e pensi subito a Spider-Man. Quindi, non lo so, ragazzi. Non mi voglio esprimere. Sono confusa. Ecco, il mio giudizio su questo trailer è, da amante della saga videoludica, sono confusa. Punto. Bene, anche questa reaction si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo, come sempre, che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e soprattutto seguirmi su Instagram, link in descrizione, dove trovate tutti gli aggiornamenti riguardanti il canale, le letture, le live e tutto quanto. Quindi, mi raccomando, seguitemi e mettetemi anche qualche like ai post se avete voglia. Ma soprattutto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi assolutamente nessun nuovo video. Vi ricordo, come sempre, che in descrizione troverete anche i link delle pagine Facebook dedicata a The Walking Dead, Carrie l'Italia e The Walking Dead ItaFamily. Carrie l'Italia è ormai solo una presenza fissa, con le mie reaction, con le live insieme a Karen, in cui commentiamo gli episodi, le news, i trailer vari che escono. Con The Walking Dead ItaFamily abbiamo iniziato questa bella collaborazione. In queste pagine potete trovare di tutto, se amate la serie, news, foto, commenta, reali di discussione, meme, video divertenti, news sugli attori, sul set, sugli aggiornamenti vari per l'andazzo delle riprese, su tutto, The Walking It ItaFamily, poi anche War Beyond e Fear, loro trattano anche quelli. Insomma, ragazzi, se amate tutto l'universo di The Walking Dead, seguite queste sprendere pagine Facebook e mettete tanti like ai loro post. Se questa reaction vi è piaciuta, mi datemi un bel pollice su e fatemi sapere nei commenti se a voi invece piace, se siete convinti, se avete giocato al gioco e siete convinti, oppure se non vi è piaciuto, se non vi convince neanche a voi. Insomma, confrontiamoci civilmente nei commenti. Ragazzi, vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ma perché devono stuprarmi un'altra saga videoludica? Cioè, ma non chiamarmela Uncharted. Chiamalo con un altro nome e non rompete i coglioni la saga videoludica, porca puttana. Grazie a tutti.